Continuiamo la nostra serie qui con DiGiper98 di SimCity. Allora c'era, eravamo lasciati capire, avevamo problemi, energia, ho risolto, ho avesso questa che non è tanto brutto da vedersi e non è poi così tanto brutto. Abbiamo già in funzione, quindi va bene. Allora, possiamo migliorare il nostro municipio. Facciamo definitamente. Ok, benissimo, siamo a un municipio, livello 3, in funzione, non ci sono proteste, però ora, vediamo un po', sono deciso se aggiungere, ah no, qua dobbiamo ottenere il profitto. Quindi, possiamo aggiungere un monumento, però abbiamo bisogno di un dipartimento del turismo. Allora, delle finanze, della sicurezza, e questo di che? Dei trasporti. E mettiamo del turismo. Oh, bene, ok, abbiamo il dipartimento del turismo. Possiamo avere visitatori. e mettiamo un bel monumento, vicino alla station, qualcosa di una zona industriale. No, 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 no. Via. Via. Eh, qua ti scaresci. Ok. Condivise con un boh. Ok. Allora, cosa possiamo mettere? Qualcosa di esteticamente bello? Questo è edificio, questo è molto bello. Però questo andrebbe sopra, più che altro. Questo, no, potrei mettere, oh, mmm, sono indeciso, ragazzi. Vediamo un po' cosa c'è. Ma questo è gigantesco. Ma una torre di Pisa? Ma no, questo è piccolino. Questo è piccolo, è stato la libertà. Una cosa, no, no. Eh, costa un po' troppo. Allora, mettiamo questo edificio Copan qui. L'edificio Copan va sopra. Che sto dicendo? Mettiamo questo. Uno qui. Ok. Ok. Uno qui, poi mettiamo quest'altro più piccolo. Questo è arc. Ok, ok. Quindi abbiamo anche una qualche monumento. Poi da parte di sopra metteremo i monumenti più grandi decisamente su. Ok. Benissimo. Allora. Il monumento ce l'abbiamo. Qui è in aggiornamento, credo, credo, le case. Devo avere spazio per un altro monumento. Quindi, vediamo un po'. Sì. Quindi, posso tracciare un'altra piccola strada. Dovrebbe, dovrei farci intorno più o meno qui. Vediamo un po' se mi esce. Ok, esce. Allora. Vediamo un po' cosa dici. Sono degli avvisi. zone. Le attività come? Ah, la zona industriale. Ok. Allora. Qua mettiamo... zone residenziali. Le zone industriali le mettiamo proprio isolamente qui. E qua, vabbè. Le residenziali. Ok. Poi vediamo come andrà. Allora. Siamo 18.000 abitanti. La domanda residenziale... no, adesso è stabile. Abbiamo il porto, il terminal traghetti con 72 passeggeri al giorno. Poi possiamo aggiungere un cartello. Qui. Va su. Porto per navi da crociera. Aumentano ancora di turisti. E questo chiede l'aeroporto. No, l'aeroporto non lo faccio. Cioè, almeno credo che non lo faccio. Non ci può stare un aeroporto, dai. Allora. Voglio vedere quanto costa uno stadio. Perché adesso mi metterò da parte un po' di big money. Ok. Morca troia. Ok. Allora. Metto questo monumento che costa... Ah, non so. Aspettiamo. Allora. Questo cos'è? Per monumento? Allora. Adesso non rimane che arrivare a 280.000. Ci sono poche perdite e molti profitti. Le tasse sono stabili e le obbligazioni tutte pagate. Ma possiamo... 50.000, siamo a 150.000. 200.000, 250.000. Utilizzando tre obbligazioni da 50.000... Ce la dovrei fare. Allora. Utilizziamo le obbligazioni. Dai. Obbligazioni a 50. 164. 214. Non ci arriviamo. Però siamo a 3400. Quindi... Oh, ok. 225.000. Perfetto. Creiamo, ragazzi, ufficialmente il nostro fantastico stadio. Ce l'abbiamo fatta. Avviamolo stadio. Dopo tanto tempo e tante obbligazioni. Oh mio Dio. Adesso le devo pagare. Allora. Cercasi personale. Sì. Subito. E sbagliamo. Tutto fatto. Vai. Qua. Vuoto. Prima che... No. Non posso costruire. Ma quasi... Ah. Qua sì. Dai. Qualsiasi posto dove posso costruire. Mi piglio tutto. Invado. Brutamente. No. No. Qua non ho le scuole. Non fa scherzo. Qua invado. No. Qua voglio mettere quella commerciale. Questa piccola zona. Mettiamo una commerciale. Vai. Credo. Questo che... Ah. Questo è... No. Vabbè. Quello dopo. Ok. Impulsione. Organizziamo subito neve. Ah. Madosca. Vabbè. Comunque aperto quei visitatori ce li abbiamo lo stesso eh. Ci sono sempre visitatori che vengono a visitare il nostro stadio. Madosca quant'è gente. Ci sono i suoi torriendo. Forse dobbiamo espandere... Una persona. C'è una persona. Anzi. Iniziano ad arrivare. Iniziano ad arrivare. Quindi. Qua che c'è? Qua che dice? Allora. Adesso iniziamo comunque a espandere... Pure qui eh. Mettiamo le zone residenziali anche qui eh. Poche. Però le mettiamo. Eh. Sì. Io metterò la sala qua sopra. Adesso voglio... Pendenza. Aspetta. Manco se la rialzo un po' il contrario. No. No. Perché? Oddio no. Allora. Ci siamo. Questa zona la mettiamo subito a media densità. Qua creiamo una strada che divide un po' di tutto. Tanto l'aeroporto avevo... Ho organizzato quell'aeroporto ma tanto non lo faccio. Un ponticello. Mazzo. Bellissimo. No no no. Rifacciamo da capo. Ok ragazzi. Chiudiamo qui questo altro episodio. Se volete sostenermi potete... Basta che condividete il video. Se volete potete iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima da DJ per Roma Toto. Questo è tutto. Sì. No no no. No no no. No no no.